e parlando al Paese con il linguaggio della verità, noi le diciamo che valuteremo minuto per minuto l'operato del suo Governo. Per queste ragioni ho l'onore di annunciarle la fiducia del gruppo che ho l'onore di presiedere, il Popolo della Libertà. Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi deputati, l'esecutivo presentato oggi chiede a questo Parlamento la fiducia, una parola che indica approvazione, fondata su una valutazione positiva dei fatti. Dopo quanto esposto negli interventi del Movimento 5 Stelle e soprattutto dopo i disastrosi risultati di questa classe politica alla quale voi appartenete da numerosi anni, come si può dare fiducia a questo esecutivo? Negli ultimi decenni si è ammessa da più parti la mancanza di credibilità di questa classe politica che ora chiede la fiducia per l'ennesima volta, come se questa squadra di governo venisse dalla Luna, come se non fosse responsabile o quantomeno corresponsabile di quanto è finora avvenuto. Secondo noi, tutto quello che oggi si prospetta agli italiani nasce da quella famosa frase lo sa lui e lo sa l'onorevole Gianni Letta, pronunciata da Luciano Violante durante un discorso alla Camera, nel quale afferma di aver garantito dal 1994 le televisioni di Silvio Berlusconi e di conseguenza di tutti i suoi interessi. Da allora tutti noi ci siamo posti le seguenti domande. Perché mai non si è fatta una seria legge anticorruzione? Perché mai non si è votato nella Giunta per le elezioni l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi? Perché costantemente aumentavano i rimborsi elettorali, arrivando a cifre da capogiro senza che nessuno si opponesse, è il tutto incompleto disprezzo del referendum del 1993 che aboliva definitivamente il finanziamento pubblico ai partiti? Perché mai i manager delle grandi aziende pubbliche sono appartenuti sempre alle aree di riferimento di questi due partiti e hanno sempre lavorato con stipendi d'oro, liquidazioni astronomiche e in cambio ci hanno lasciato aziende distrutte e svendute, in barba alla fatica dei nostri genitori e dei nostri nonni? Perché non è stata mai, e dico mai, discussa alcuna legge di iniziativa popolare in Parlamento? Perché nel silenzio generale molto spesso l'esito del referendum non viene rispettato? Perché mai il TAV, il Ponte sullo Stretto di Messina, la Gronda, tutte opere economicamente e ambientalmente insostenibili hanno l'appoggio di questi due partiti? Abbiamo troppe domande e molti indizi e tantissimi fatti che ormai sono in evidenza. Un accordo forte, di sistema, tra i due più grandi attori della politica italiana, tiene sotto scacco il Paese e i cittadini tutti. Ecco spiegati vent'anni di opportunità perdute per la nostra terra, per i suoi abitanti, per la nostra crescita culturale e di comunità. Ci sono tantissime persone, troppe in questo Paese, che la notte non sanno dove dormire, che hanno paura del domani, dei debiti. Ci sono persone che piangono per la disperazione e non siamo certo noi i responsabili di queste tragedie, che probabilmente anche qualcuno di noi ha vissuto. Siamo convinti che non basta avere, come è stato detto, un governo anagraficamente giovane né un governo con numerose presenze femminili. Ciò che serve all'Italia è portare avanti un'idea innovativa e il requisito minimo per poterlo fare è avere persone disinteressate dall'alta e comprovata moralità e onestà. Ci teniamo a ribadire che non siamo l'emergenza democratica di questo Paese. Noi siamo la conseguenza della finta democrazia di questo Paese. Da oggi le emergenze si dovranno chiamare, prima di tutto, conseguenze, perché le conseguenze prevedono delle responsabilità da individuare. A proposito di responsabilità, vogliamo dire a tutti voi e agli italiani e nonne che ci stanno ascoltando che voteremo favorevolmente quei provvedimenti che riterremo utili per il bene comune, quelli di irreale cambiamento. Per il resto faremo un'opposizione seria, costruttiva, propositiva. Il nostro non è un no a priori, ma un no frutto di conoscenza, di informazioni, un no di chi non vuole accontentarsi del meno peggio, di chi non può e non vuole chiudere gli occhi davanti a questo inciucio, di chi non vuole cedere allo squallido compromesso che chiede voti in cambio di posti di lavoro, di concessioni, di permessi. Il nostro no alla richiesta di fiducia è un no informato, figlio di tanti scandali, come le discariche di Caiano, Malagrotta, Bello Lampo e quella sul fiume Pescara, gli ecomostri Residence Roma ed il Real Monte, le migliaia di morti sul lavoro che piangiamo ogni anno e che dopo un apparente interesse da parte delle istituzioni sono tornate nel silenzio generale senza subire alcun significativo calo, gli scandali sanitari dell'ospedale San Raffaele, Santa Rita, della Sanitopoli d'Abruzzo e della Clinica Santa Teresa, gli scandali finanziari Parmalat, Monte Paschi di Siena e Anton Veneta, i morti uccisi in decenni di guerra dall'Andrangheta, dalla Camorra e da Cosa Nostra, i morti a causa di tumore, in nome della crescita, dall'Ilva al petrochimico di Gela, a tante altre zone d'Italia. E non per ultimo alle bombe di Capaci, Via D'Amelio, Roma, Firenze, Milano e questo è solo un breve elenco potenzialmente infinito. Per tutti questi motivi il voto del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle non può che essere contrario alla fiducia da voi richiesta. La fiducia è qualcosa che si conquista nella vita dimostrando di meritarla giorno per giorno, è qualcosa che resiste anche a singoli errori, ma che non può persistere dopo che queste forze politiche che voi rappresentate hanno dimostrato di non voler cambiare, ma solo di far finta di cambiare. Grazie. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Speranza. Dieci minuti. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio Letta. Ci sono passaggi nella storia di un Paese in cui bisogna avere il coraggio, la forza di mettere prima di tutto l'interesse nazionale. E io penso che noi siamo proprio a uno di questi passaggi. Un passaggio decisivo, importante, caratterizzato prima di tutto da una crisi economica senza precedenti, la più grande, la più decisiva per intensità e profondità dalla Seconda Guerra Mondiale. E a questa crisi economica si aggiunge una crisi di rappresentanza democratica che ha portato ad un quadro politico instabile ed è un forte rischio di ingovernabilità, anche per una legge elettorale ingiusta, direi disastrosa, che è una delle prime cose che dobbiamo immediatamente cambiare. Il PD farà la sua parte, lo farà fin in fondo, nell'interesse del Paese. E se c'è una cosa che ci ha portato avanti in queste settimane, con coerenza, è proprio aver sempre agito nell'interesse del Paese. Il Governo del cambiamento di cui abbiamo parlato non è